A Pescara il candidato presidente del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi ha mostrato al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede i quartieri tra più a rischio d'Abruzzo, il ferro di cavallo di Rancitelli, via Caduti per Servizio a Fontanelle e via Passo della Portella in zona ospedale a Pescara. Accompagnati dal consigliere regionale Domenico Pettinari hanno incontrato i cittadini e dato ascolto ai loro problemi. Oggi siamo qui con Sara Marcozzi per dare il senso di un'attenzione importante che viene portata nelle periferie di questa meravigliosa regione dove ci sono tanti cittadini che vorrebbero soltanto sapere che lo Stato è dalla loro parte. Anche soltanto questo per loro è tantissimo. Io oggi ho avuto il piacere di incontrare i membri di questa associazione insieme per Fontanelle e ho avuto il piacere di incontrare il presidente Nello Raspa che mi raccontano storie che credetemi sono storie che esistono in tutta Italia cioè di persone che decidono di farsi portatori di onestà e legalità all'interno di un quartiere consapevole che il futuro delle nuove generazioni passa attraverso il valore dell'onestà. E questo è fondamentale perché sono persone che hanno portato avanti queste battaglie da sole. Parlavo prima con Nello che mi diceva che gli hanno incendiato la macchina che hanno preso a martellate il suo portone con una violenza tale da fargli pensare che fossero spari. Queste persone poi scendono in strada il giorno dopo e continuano a lavorare con lo stesso impegno di prima e anzi con maggiore determinazione perché sanno che stanno portando avanti una battaglia fondamentale per il futuro di questo paese. E io vengo oggi a dirgli innanzitutto grazie e poi a dirgli che non è più così. Non sono più soli. Quotidianamente ci impegniamo come governo e sono sicuro che Sara Marcozzi lo farà in regione per portare avanti il segnale di istituzioni che sono a fianco dei cittadini, di tutti i cittadini, anche coloro che nelle periferie di questo paese ormai pensavano di dover essere per sempre ultimi e che invece rappresentano una priorità.